ma come potete fare le campanottate fino a 11 lunghe si? si, non è lunghe, 5 minuti ma ma buon allora dai dopo il campanello lo suoni magari così due quel campanello là si suoni il doppio buon va bene qui stai vai c'è attacca qui stai con me c'è tu? io? sono usciti i signi una un'altra una pippa l'ora un'altra pippa l'ora un'altra pippa l'ora un'altra pippa l'ora aspetta Luca io sto chiedendo il banduzzello o devo muovere la grande? eh? tu la muovere vai tu calca non tengo il banduzzello come spizzo la piadena che se lo fa scasera e torna la caldi vai e ci si muove il banduzzello vai 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 monastic non hai è non ti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.